Trage alla lanterna azzurra di Corinaldo, per IPM la tragedia era evitabile, contestate gravi violazioni strutturali, digestioni organizzative, codici, bombi annunci di vendite, truffe via mail e online, ecco come riconoscerle e difendersi dai raggigli. Sono finiti in carcere due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna onconetana, per il questore la violenza sulle donne rappresenta l'odio e l'indifferenza per l'essere umano. I farmaci agnostici, la nuova frontiera della lotta al cancro, alla vigilia della giornata mondiale presentato il protocollo innovativo che rende la cura più efficace e meno invasiva. Attivate a Fanno altre 10 telecamere nelle isole ecologiche e salgono a 60 quelle video sorvegliate per stanare e punire furbetti dei rifiuti. A Fanno ripristinato il tavolo di orientamento, incontri, laboratori e sportelli per coinvolgere i ragazzi verso una scelta consapevole della scuola superiore. Buonasera, lo avete sentito, era annunciata e ampiamente evitabile la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui persero la vita 6 persone. Lo hanno sottolineato i pubblici ministeri di Ancona, Paolo Gubinelli e Valentina Bavai nell'udienza preliminare del processo BIS. I PM hanno parlato di carenze strutturali che rendevano la discoteca inidonea, di imponenti violazioni di norme antinfortunistiche, sovraffollamento e altre condotte colpose e omissive. Vengono contestati a vario titolo le accuse di disastro colposo e cooperazioni in omicidio colposo, lesioni e falso. La procura ha ribadito in aula la richiesta di rinvio a giudizio dei 10 imputati, tra cui i componenti della commissione di vigilanza, tecnici, un socio gestore e la società Magic SRL. Per altri 7 imputati si procede con rito abbreviato in parallelo. L'accusa ha già chiesto 5 condanni e 2 assoluzioni, altri 2 patteggeranno la pena. Il GUP si pronuncerà il 22 febbraio. E adesso ci occupiamo di casi di frode che purtroppo su internet stanno aumentando. È sempre più importante quindi distinguere tra fornitori affidabili e truffatori. L'esperto Davide Zanon dell'associazione Codici ci dirà come riconoscere questi raggiri e cosa possono fare le vittime truffate. Truffe online sempre più diffuse. È innegabile che la pandemia abbia portato con sé un aumento della criminalità informatica. Dalle mail agli sms, passando per i social network, il terreno di caccia dei truffatori è sempre più vasto e sono sempre il più le trappole in cui i consumatori rischiano di cadere quando navigano su internet, controllano la posta elettronica o i messaggi sullo smartphone. Negli ultimi tempi le segnalazioni hanno registrato un aumento vertiginoso, complice il boom delle vendite online. Bisogna fare attenzione ai messaggi che riceviamo, avverte Ivano Giacomelli, segretario nazionale di codici, anche quando vengono riportati marchi di notte aziende. Spesso, infatti, si tratta di imitazioni. La società citata è stranea alla comunicazione. Serve solo per attirare l'attenzione del consumatore e spingerlo a cliccare un link o a fornire dati personali utili a far scattare la truffa. In questi casi è importante non fermarsi all'aspetto del messaggio che per logo e grafica può sembrare originale e controllare, ad esempio, il testo, la data o il mittente, perché un refuso o un errore possono aiutare a smascherare il raggiro. A darci utili consigli oggi è Davide Zanon, della stessa associazione dei consumatori. Davide, spesso la truffa è dietro l'angolo, ma come possiamo accorgerci di un eventuale raggiro? La regola principale è quella di fare attenzione a quello che ci viene proposto. L'affare d'oro, l'affare del secolo non esiste e soprattutto bisogna stare attenti alle comunicazioni insolite. Si possono ricevere sms, email, ma anche chiamate da parte del nostro istituto di credito che ci dice che c'è stato un tentativo di truffa, addirittura usano questi sistemi, per cui cercano di attrarre la nostra attenzione, creare anche un momento di panico per confonderci, per poi chiederci dei dati sensibili come l'ID o la password per entrare all'interno del nostro conto bancario oppure per rubare i dati sensibili, che è una cosa purtroppo che spesso accade. Stanno aumentando anche le truffe online, come sui social network, ma in che modo avvengono nello specifico? Allora, purtroppo sui social network si vede nascere ultimamente un sacco di annunci, soprattutto con l'aumento del business nell'online, negli acquisti online, vendita di prodotti, anche qua l'affare d'oro a prezzi vantaggiosissimi. All'inizio magari il venditore si riesce a parlare col venditore, che si dimostra disponibile, che risponde ai messaggi, ma una volta che poi incassa il denaro, chissà perché, sparisce. A quel punto iniziano le peripezie, perché magari il venditore è all'estero, c'è chi segnala di aver ricevuto un prodotto qualitativamente peggiore di quell'ordinato oppure totalmente diverso e poi ci sono le consegne mai avvenute. Bisogna verificare sempre bene l'attendibilità del venditore, ha precisato Zanon, e affidarsi solo ai canali ufficiali e più conosciuti. Quello che mi preme sottolineare è ricordare che si ha il diritto alla verifica, non abbiate fretta, ricevete un messaggio, ricevete una chiamata, una mail, voi avete tutto il diritto di chiamare il vostro istituto bancario con i numeri che avete voi, non quelli segnati sulla mail, perché ovviamente essendo una truffa potrebbero mettere dei numeri a cui risponde il truffatore, e verificare che quello che vi stanno dicendo è vero. Chiamo la banca, mi è arrivato questo messaggio, è vero che mi stanno accedendo al conto, è vero cosa devo fare, e lì vedrai che poi si smascherà il truffatore. E chi subisce una truffa a chi può rivolgersi? Innanzitutto sarebbe bene fare una segnalazione alla polizia postale. L'associazione Codici ha aperto uno sportello che appunto aiuta chi dovesse essere vittima di truffe online a cercare di fare tutti quei passaggi per provare a avere giustizia e riavere il mal tolto. Quindi anche sul sito internet possono riuscire a reperire tutte le informazioni del caso? Allora la via più facile è la mail che è segreteria.sportello.org oppure il numero telefonico nazionale che è lo 06 55 71 996. Un servizio che viene offerto in modo gratuito? Sì, è un servizio gratuito per i nostri tesserati e appunto rispondiamo nel giro di una settimana massimo. Ieri pomeriggio i poliziotti di Macerata e Ancona hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, messe a carico di due italiani di 44 e 52 anni, gravati da indizi di colpevolezza in merito al reato di violenza sessuale di gruppo commessa ad aprile scorso ai danni di una 35 anni anconetana. Le indagini sono partite dopo la rifertazione della vittima venuta all'ospedale. Gli investigatori sono riusciti a individuare i due responsabili della violenza consumata in un appartamento di proprietà di uno degli indagati dove la donna era stata condotta con l'inganno. Entrambi sono stati portati nel carcere di Montacuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. La violenza sulle donne, ha commentato il questore di Ancona, non può avere la parvenza di un nobile sentimento che non sia la volontà di dominio, la sopraffazione, l'odio, l'indifferenza per l'essere umano. Negli ultimi anni nelle Marche si contano più di 29.000 tumori maligni in occasione della giornata mondiale contro il cancro che si celebra domani. Ad Ancona è stato presentato un nuovo protocollo per una cura con farmaci che è più efficace e anche meno invasiva. Filippo Pucci Agli ospedali riuniti di Ancona parte un nuovo protocollo sperimentale, l'utilizzo di farmaci agnostici che rappresentano la frontiera più avanzata dell'oncologia di precisione e possono essere definiti jolly perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche indipendentemente dall'organo interessato dalla patologia. Sarà attivato solo in sei centri d'Italia. La presentazione si è svolta nel corso di una conferenza stampa alla vigilia del 4 febbraio, la giornata mondiale contro il cancro. Presente anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini è la migliore occasione per presentare un sistema innovativo, ha dichiarato, che potrebbe rivoluzionare la cura. Nella regione Marche negli ultimi tre anni si sono registrati quasi 16.000 tumori maschili, più di 22.000 se si considerano anche i tumori non maligni e 13.400 nelle donne, 19.000 complessivi. Negli uomini i più ricorrenti sono prostata, colon retto e polmone, nelle donne mammella, colon retto e utero. L'analisi effettuata dal registro tumori della regione rileva che a un anno dalla diagnosi la sopravvivenza è del 75% negli uomini e del 79% nelle donne. In particolare negli uomini le cure si sono rivelate efficaci, specie per tumori al testicolo, prostata, tiroide, linfoma di Hatchkin e vescica. Nelle donne per tiroide, mammella e linfoma di Hatchkin. Endometrio. L'emergenza coronavirus, ha sottolineato Saltamartini, non ha fermato i reparti di oncologia medica, le sedute di chemioterapia nei dei hospital, la somministrazione di vari farmaci anticancro e tutto il consueto lavoro di reparto sono stati riorganizzati per mettere in sicurezza sia il personale sanitario che i pazienti. Non dobbiamo neppure dimenticare, ha concluso l'assessore, la prevenzione perché il 40% dei tumori è potenzialmente prevenibile. I carabinieri forestali hanno denunciato un 24enne di Fabriano per l'ipotesi di maltrattamento di un cane di razza American Staffordshire. L'animale era detenuto all'interno di un appartamento e spesso in un terrazzo. Dagli accertamenti svolti insieme ad un veterinario dell'Azur è emerso che il cane si trovava in uno stato di grave malnutrizione e necessitava di cure urgenti. Per evitare ulteriori sofferenze è stato sequestrato dai militari che lo hanno affidato a servizio veterinario. Il proprietario rischia le pene previste dal codice penale che vanno da un anno di arresto ad ammende fino a 10.000 euro. E adesso parliamo di loculi e di concessioni perché a Fano è stato modificato il regolamento di polizia mortuaria con importanti novità. Ce le spiega l'assessore ai servizi cimiteriali Sara Cucchiarini. E' stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta di adottare un nuovo regolamento di polizia mortuaria elaborato in base a precise necessità che richiedevano da tempo una risposta. Nello specifico sono state snellite alcune procedure per i servizi cimiteriali che riguardano i diritti dei genitori che hanno perso un figlio e quelli delle persone che convivono o che si sono unite con matrimonio in forma civile. Assessore avete dato una risposta alle tante richieste pervenute dai cittadini. Quali sono le novità? Le novità ci tengo intanto a dire che sono novità sia comunque maturate da un cambio del quadro normativo che nel tempo si è evoluto ma anche dalle esigenze che la cittadinanza negli anni ci ha rappresentato. In questo settore sappiamo che la sensibilità è tanta e bisogna comunque essere in grado di operare e di raccogliere indicazioni con cura. Una delle azioni che abbiamo introdotto al netto che non cambiano i diritti di concessione di durate ma anzi vengono comunque ampliate le possibilità per la cittadinanza viene diciamo introdotta un elemento molto importante che è la possibilità per i genitori che perdono i figli di poter prenotare uno spazio cimiteriale, un loculo o una sepoltura a fianco degli stessi. Questo è un gesto di sensibilità nei confronti comunque delle famiglie e le richieste purtroppo ci sono. Un'altra novità ha proseguito l'assessore riguarda l'equiparazione dei diritti legati alla concessione e al ricongiungimento del coniuge che ora sono estesi anche ai conveventi di fatto e agli uniti civilmente. Un altro elemento di sicuro interesse importante per la cittadinanza è la possibilità di prenotare e acquistare loculi per persone viventi anche in caso di non ricongiungimento ma prenotarlo ed acquistarlo nel caso in cui ci siano spazi sufficienti e nuovi loculi per poterlo fare. E sappiamo come abbiamo già avuto modo di comunicare alla stampa che ci sono comunque nuovi loculi che abbiamo messo in programma nel piano triennale sia in questa novità che nella prossima per due nuovi padiglioni a Rosciano, al cimitero di Rosciano. Da oggi le spiagge di sabbia Fano saranno ancora più pulite. È stato testato questa mattina Beach Tech 2500, un pulisci spiaggia acquistato da Aset in grado di raccogliere materiale di piccole dimensioni. Con una profondità di lavoro fino a 30 centimetri il macchinario garantisce un prelevamento di tutti quegli oggetti anche inquinanti che fino ad oggi non riuscivano ad essere raccolti. Esclusa la zona di Sassonia composta di ghiaia e quelle porzioni di lungomare inaccessibili vi sono 9 chilometri da Gimarra fino a Ponte Sasso che Aset cura preparando l'arenile in vista della nuova stagione estiva. Insieme alla tutela dell'ambiente marino si preserva così la bellezza delle spiagge. E ieri si è riunito il consiglio di amministrazione di Aset SPA per esaminare quanto pubblicato di recente sulla stampa in merito a un presunto studio redatto da Marche Multiserviziera per una eventuale aggregazione con Aset. In tale sede all'unanimità si è deciso di richiedere una copia del documento che sarebbe già stato elaborato nel settembre 2019. Lo studio viene richiesto con il solo obiettivo di verificare se contenga dati aziendali riservati di cui l'organo amministrativo di Aset non ha mai autorizzato la trasmissione all'esterno. Al termine della verifica la società di servizi si riserverà l'eventuale avvio di approfondite da indagini interne. Per aiutare i giovani in una decisione consapevole su quale scuola superiore scegliere ma anche per evitare il fenomeno sempre più dilagante dell'abbandono scolastico, Afano è stato ripristinato al tavolo di orientamento permanente. Laboratori in aula, servizi di sportello e incontri dedicati per scoprirsi, misurarsi ed essere valorizzati. Il comune di Afano mette i giovani al centro del proprio futuro con il tavolo di orientamento permanente che è stato ricostituito e potenziato. Grazie ad una condivisione più ampia l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori ha riunito tutti gli attori coinvolti per un nuovo sistema che vuole accompagnare i ragazzi nella scelta della scuola di secondo grado, con uno sguardo rivolto anche all'inserimento nel mondo del lavoro. Tra gli obiettivi rientra quello di contrastare la preoccupante emergenza, sempre più accesa, dell'abbandono e della dispersione scolastica. Consiste nell'accompagnare tutto quello che è l'attività didattica ma di crescita e di scelta dei ragazzi verso il loro futuro perché i ragazzi hanno proprio bisogno di essere aiutati ad aiutarsi per acquisire un'autonomia nelle scelte e una conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità territoriali. Il tavolo infatti è stato allargato alle sigle sindacali, ai rappresentanti dei centri per l'impiego, l'agenzia formativa Digital Smart di Fano sotto un coordinamento del personale del servizio d'edalo. Perché il ragazzo sperimentando acquisisce ancora maggiore consapevolezza di quelle che sono le proprie inclinazioni per cui ecco il favorire una struttura proprio di lavoro e anche di pensiero attraverso il cui i nostri giovani oggi possano orientarsi verso la loro strada è determinante. È chiaro che questo tavolo che è già partito e già siamo al terzo incontro è partito a pieno ritmo, siamo molto contenti, stiamo già nel prossimo incontro penso che andremo a definire quello che è un programma di lavoro e questo programma proprio prevede delle azioni che saranno rivolte anche ad un aiuto. Ci candideremo anche per avere dei finanziamenti da parte della regione per essere sostenuti nelle varie attività che si concluderanno nel settembre con quello che poi è l'evento di fine anno proprio di orientamento dei ragazzi che quest'anno proprio questa rete servizio Fano TV ha promosso con determinati servizi sulle scuole perché ahimè il Covid non ha permesso alle famiglie, dico le famiglie perché è fondamentale anche l'aiuto proprio dei genitori nell'accompagnamento di questi ragazzi a farsi e ad accompagnare i propri figli verso la scelta migliore. Gli speciali andati in onda su Fano TV sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito occhioallanotizia.it E l'assessore Bruno Ricci ha fatto sapere che da ieri sono attive le telecamere in altre dieci isole ecologiche della città. Si tratta di alcune zone spesso segnalate per abbandono conferimento non corretto dei rifiuti. Rientrano ad esempio quelle in Viale Kennedy, Via Aldomoro, Motta, Nazario Sauro, Via Comunale delle Cerette a Carignano e la Strada Nazionale Adriatica Sud. Salgono così a 60 le isole video sorvegliate per tenere sotto controllo i comportamenti scorretti dei cittadini. La barchetta di Passaggi Festival attraversa i suoi primi dieci anni ancora carica di parole da leggere e da scrivere è quella che vedete alle mie spalle, l'immagine proposta da Maria Chiara Indelicato che costituirà il logo rappresentativo della decima edizione del Festival in programma a Fano dal 20 al 26 giugno. Il logo è stato scelto dal pubblico attraverso un sondaggio online aperto a tutti sul sito del Festival. Erano sei le immagini in gara ma quello di Maria Chiara, grafica e designer, ha riscosso un notevole successo registrando più di 2700 preferenze. E vi annuncio che lunedì sera a primo cittadino ci sarà il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi. 338 49 68 250 è il numero di telefono dedicato anche alle vostre segnalazioni per noi sempre importanti. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Domattina alle 7 invece la lettura dei giornali insieme a Massimo Foghetti. Arrivederci. Grazie.